c'è ci guarda quelle sono quelle che abbiamo visto ieri in vetrina costano pochissimo e c'è la spedizione addirittura fino al 23 gratis e allora che aspetti a comprarle? si tocca le compro subito signora altra del corriere c'è un palco per lei venga venga buongiorno buongiorno ecco a lei mi può mettere una firma a lei arrivederci ma non erano così? no sono plasticose tutte pure ammollite cioè solo la scritta è uguale praticamente pure la confezione cadute nel tranello ciao 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 ciao